Oggi, mercoledì 15 maggio, finalmente è giunta la notizia tanto attesa da tutti. Andrei, 13 anni, scomparso dalla sua abitazione giovedì scorso, è stato ritrovato. Sta bene, afferma la mamma Elena, siamo dai carabinieri. Grazie a tutti per l'aiuto che ci avete dato. Il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri di Milano, mettendo così fine alla preoccupante ricerca che ha coinvolto l'intera Italia, con la trasmissione Rai Chi l'ha visto? Che si è occupata del caso. I familiari stanno recandosi a prenderlo, e presto sarà il momento delle spiegazioni. Tuttavia, ciò che conta di più è che Andrei stia bene e possa riabbracciare i suoi genitori. La gioia è palpabile anche a scuola, dove compagni di classe e insegnanti hanno atteso con il fiato sospeso il ritorno del tredicenne. La bidella è corsa subito ad informarci del ritrovamento di Andrei, racconta Melissa De Risi, insegnante del ragazzo ed ex assessore di Lonate. In classe è scoppiato un applauso fragoroso. E da parte di qualcuno è scesa anche qualche lacrima. È una gioia immensa, eravamo tutti molto preoccupati. Adesso aspettiamo Andrei a scuola.